Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg di TV City. In apertura torniamo ad occuparci dei disagi degli utenti della circonvesuviana dopo la soppressione della tratta. Il presidente dell'EAV scrive ai sindaci, poi l'emergenza sanitaria via la terza dose nei prossimi giorni anche per i cinquantenni, lo ha annunciato il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Intanto aumentano i casi in tutta Italia con regioni a rischio zona gialla. Nella provincia di Napoli, in particolare a Torre del Greco, i casi salgono a quota 200. Cambiamo argomento. Il comune di Ercolano in campo per stanare gli evasori della Tari. inviati circa 900 avvisi di fida. Il sindaco Buonaiuto sostiene che si andrà avanti in questa battaglia fino in fondo. Restiamo ad Ercolano dove sabato 13 novembre si svolgerà la cerimonia per ricordare Salvatore Barbaro, vittima innocente di Camorra. In chiusura siamo a Torre del Greco, il comune in cerca di soggetti interessati ad organizzare eventi nell'ambito della rassegna Natale da favola. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Dopo i disagi per gli utenti della circunvesuviana per la soppressione della tratta Napoli torrenunziata a Poggio Marino, il presidente De Gregorio scrive ai sindaci dei comuni interessati. EAB è stata costretta di vedere gli orari a fronte di un'improvvisa e anomala protesta del capo stazione, con i quali un paio di anni fa è stato firmato un accordo che ha portato loro un aumento di inquadramento e quindi retributivo, ed ogni anno manifestano un'improvvisa in disponibilità al lavoro straordinario che facevano regolarmente da anni. Attenzione, lavoro straordinario che si azzererà o ridurrà a livelli fisiologici entro sei mesi, al completamento dei concorsi interni in atto. Il rifiuto del lavoro straordinario è motivato da una richiesta di ulteriore aumento di inquadramento retributivo, insostenibile per l'azienda. De Gregorio ha spiegato la situazione in una lettera inviata ai sindaci di Scafati e Poggio Marino. In questo modo il responsabile dell'azienda di trasporti prova a giustificare la decisione di limitare a torre annunziata i treni che da Napoli dovevano raggiungere Poggio Marino, decisione assunta improvvisamente sabato 6 novembre. Tecnicamente, prosegue il presidente di EAP, è stato quindi necessario procedere ad una revisione e contrazione delle corse su diverse linee, sempre sostituita in ogni caso da servizi su gomma, sperando di far rientrare la protesta nel più breve tempo possibile e ripristinando il precedente orario. In ogni caso, è scritto ancora nella missiva aggiunta ai sindaci di Scafati e Poggio Marino, si evidenzia che per Scafati e Pompei Santuario, oltre al servizio automobilistico, sono rimasti nove treni navette che arrivano a torre annunziata, dove c'è una rottura di carico, quindi per proseguire verso Napoli i viaggiatori devono scendere ed utilizzare un altro treno che porta a Napoli. Se viceversa, da Napoli si vuole andare a Pompei Santuario Scafati, i viaggiatori scendono a torre annunziata, dove c'è un treno navetta in coincidenza che porta sino a Poggio Marino, con fermate intermedie a Bosco Reale, Pompei Santuario e Scafati. Siamo consapevoli del disagio provocato al nostro malgrado ai utenti e speriamo di poter ripristinare il servizio ordinario quanto prima. Credo che già nei prossimi giorni la terza dose si estenderà ai cinquantenni, a dirlo il sottosegretario di Stato Andrea Costa, intervenuto oggi a Start su Sky TG24, che aggiunge, dobbiamo attendere con fiducia le indicazioni scientifiche, è ragionevole pensare che ci sarà un'estensione della platea per i quali sarà prevista la somministrazione. È chiaro che se mi trovasse di fronte a scegliere tra inasprire misure distrittive o mettere l'obbligo vaccinale per alcune categorie, io credo sia più giusta la seconda ipotesi. Non credo sia giusto continuare a far pagare restrizioni a coloro che invece si sono vaccinati, mi sembra un ragionamento di buonsenso. La proroga dello stato d'emergenza sarà una valutazione che faremo a fine anno sulla base del quadro epidemiologico e dei contagi, sottolinea Costa. Intanto siamo di fronte alla quarta ondata di contagio in tutta Italia, con picchi in alcune regioni che rischiano la zona gialla. In campagna, secondo l'ultimo bollettino, sono 493 casi positivi nelle ultime 24 ore, a fronte di 29.252 test esaminati. Cala l'indice di contagio, come di solito accade dopo il fine settimana, quando diminuisce il numero dei test esaminati. Aumenta invece il numero dei decessi. Negli ospedali sale a 18 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive e a 281 ricoveri di degenza. Nella provincia di Napoli, in particolare a Torre del Greco, i casi sono arrivati a 200, quelli in isolamento domiciliare e 13 sono gli ospedalizzati. Pugno duro del comune di Ercolano per stanare gli evasuri dell'Atari. Sono circa 900 gli avvisi di diffida per omessa denuncia ai solleciti di pagamento che sono stati recapitati in questi giorni ad imprenditori e commercianti della città. Non è giusto che il servizio della raccolta dei rifiuti venga pagato soltanto dalle persone per bene. Sono le parole del sindaco Ciro Buonaiuto in un video postato sulla sua pagina Facebook e rivolto alla cittadinanza. Vi tengo aggiornati sulle attività che il comune sta svolgendo per stanare gli evasori dell'Atari perché non è giusto che il servizio per la raccolta dei rifiuti venga pagato soltanto dalle persone per bene. Continua dunque senza sosta l'attività da parte degli uffici per ridurre le sacche di evasione dell'Atari. Il comune ha inviato a tutte le attività commerciali che non sono in regola con i pagamenti questa diffida e se entro 30 giorni non si richiede la ratalizzazione del debito o non si estingue il debito saranno emessi gli avvisi di accertamento e trascorsi i termini di legge arriveremo fin anche a cessare le attività commerciali di chi non paga. Invito quindi tutti i commercianti, tutti gli imprenditori che hanno ricevuto questa diffida a non sottovalutarla perché come vi ho promesso in questa storia andremo fino in fondo. Una cerimonia per ricordare Salvatore Barbaro, vittima innocente di Camorra. Sabato 13 novembre alle 11 Salvatore sarà ricordato in via Mare ad Ercolano, proprio nel luogo in cui gli fu tolta la vita. È l'iniziativa della Fai Antiracket Ercolano per la legalità a distanza di 12 anni da quel tragico 13 novembre 2009. Salvatore Barbaro era un giovane di Ercolano, estraneo agli ambienti della criminalità organizzata, ucciso per un errore fatale. La sua auto era dello stesso tipo di quella utilizzata dal boss, destinatario della spedizione di morte. L'omicidio avvenne in un contesto di particolare tensione tra i vari gruppi camorristici che si contendevano il territorio, con oppressione, condizionamento, violenza e paura. Grazie alla fiducia nelle istituzioni, alla ribellione dei cittadini e alla sinergia tra tutte le forze in campo, quella stagione è ormai alle spalle. La Fai Antiracket è impegnata costantemente nel diffondere la cultura della legalità, invitando alla denuncia, assistendo le vittime e tenendo viva la memoria degli innocenti caduti per mano della criminalità. Sin dal primo momento ci siamo stretti alla famiglia di Salvatore Barbaro, esprimendo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà nel percorso di giustizia e partecipazione. L'amministrazione comunale di Torre del Greco alla ricerca di soggetti interessati ad organizzare eventi da inserire nel palinsesto Natale da favola, via all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse. È intenzione del Comune di Torre del Greco realizzare nel periodo di dicembre alcune iniziative che nell'ambito delle festività natalizie rappresentino un momento saliente delle attività culturali e turistiche del territorio. I soggetti interessati dovranno presentare progettualità ed iniziative sulle tematiche a tema. Si legge così nell'avviso a firma della dirigente ad interim della UO Cultura, eventi, turismo e marketing territoriale Claudia Sasso, a seguito della determina del 3 novembre. In particolare saranno finanziate serate, minimo 13, dedicate ai cori gospel, orchestra internazionali, concerto bandistico e street band, gruppi folk, concerti di musica natalizia, concerti itineranti, zampogna e o orchestra che avranno come location, luoghi di culto, parrocchie, centri di aggregazione sociale, strade e o piazze cittadini del centro e della periferia. Poi saranno finanziate serate, minimo 5, per animazione a tema Il mondo delle favole e o personaggi Disney con strutture e allestimenti scenici a grandezza naturale, artisti di strada, water bowl, acrobati e tessuti aeri che avranno come location le vie dello shopping. Infine saranno finanziate proiezioni e o video mapping. Proiezioni a tema natalizio che abbiano particolare rilevanza sociale, culturale o turistica in almeno due siti cittadini rispettivamente del centro e della periferia. I proponenti, muniti delle necessarie autorizzazioni, possono prendere in considerazione anche sfondi di proprietà comunale o luoghi e strade cittadine del centro e della periferia. Per info e dettagli è possibile consultare l'avviso sul sito istituzionale del comune. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie. Grazie.